Un saluto dalla redazione di Telemolise, buon primo maggio, in apertura subito all'emergenza coronavirus con gli ultimi aggiornamenti, scende ancora il numero dei casi attualmente positivi in Molise. L'ultimo bollettino diffuso stasera dall'ASREM ne indica 183. Le novità del giorno riguardano due nuovi positivi su circa 250 tamponi processati. Si tratta di due giovani ROM di Termoli, ma ci sono anche otto nuovi guariti, sette pazienti del Neuromed e un cittadino di Ferrazzano. Complessivamente le persone ricoverate dal Cardarelli sono 11, di cui una sola è in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza i tamponi effettuati sono 6.594, 300 invece i tamponi risultati positivi guariti salgono complessivamente a 69. E adesso parliamo della nuova ordinanza firmata dal Presidente della Regione, Toma, che impone una serie di obblighi a chi dal lunedì prossimo rientrerà in Molise e dalle altre regioni. Sentiamo Tonino Danese. Il Molise è verso la fase 2. Il governatore Toma ha emanato un'ordinanza in vigore dal lunedì 4 maggio, con efficacia fino al 10 maggio. Si rivolge in sostanza a quanti rientreranno in Molise nei prossimi giorni, dovranno segnalarsi e mettersi in quarantena per 14 giorni. Tutti coloro che si legge all'adozione del provvedimento hanno soggiornato per più di 24 ore negli ultimi 14 giorni fuori dal Molise e sono obbligati, una volta rientrati nel territorio regionale, a comunicarlo entro due ore al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelto ai numeri 0874 31 30 00 0874 40 90 00 e agli indirizzi email coronaviruschiocciolahasrem.org e dipartimento unico prevenzione chiocciolahasrem.org. Per chi rientra in Molise e da fuori regione vi è l'obbligo di osservare, salvo diversa disposizione da parte del Servizio Regionale di Sanità Pubblica, una quarantena di 14 giorni non può spostarsi o viaggiare, deve essere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza e, se compaiono sintomi, comunicarlo immediatamente ai numeri, gli indirizzi e le strutture preposte. Ancora, i gestori dei servizi di trasporto sono obbligati a comunicare all'autorità sanitaria attraverso i numeri telefonici e gli indirizzi email riportati entro le 24 ore successive in nominativi di coloro che abbiano usufruito del servizio indicando l'intera tratta di percorrenza. Le autorità preposte alla vigilanza e al controllo dopo l'accertamento di una violazione dell'ordinanza dovranno immediatamente comunicarlo all'ASREM. Nel provvedimento è prevista la possibilità, ed è anche una raccomandazione, di segnalare, se se ne ha conoscenza, eventuali violazioni di quarantene alle email coronavirus-asrem.org, dipartimento unico prevenzione-asrem.org. Il mancato rispetto delle misure dell'ordinanza è punito con sanzioni da 400 a 3.000 euro aumentabili se si usa l'auto. Chi positivo va in giro rischia il carcere. Intanto anche oggi, primo maggio, sono continuati i controlli delle forze di polizia sul territorio affinché vengano rispettate le disposizioni e non si creino assembramenti. La guardia deve rimanere alta. E si avvicina alla fase 2. Dicevamo, il sindaco di Termoli, Francesco Roberti, con un videomessaggio rivolto alla popolazione fornisce una serie di raccomandazioni sul comportamento da adottare, invitando tutti alla cautela e al buonsenso. Sentiamo Manuela Iorio. Ci avviamo a una graduale riapertura dal 4 maggio. Il sindaco di Termoli, in un video caricato sulla pagina Facebook del Comune, ha fornito le indicazioni su questa seconda fase, ribadendo che non siamo ancora usciti dall'emergenza e che poco cambia in merito al modo di comportarci. Quindi vale sempre la regola del distanziamento sociale, del lavaggio frequente delle mani, dell'uso di mascherine e guanti nei centri commerciali per fare la spesa. Da lunedì sarà possibile incontrare i congiunti, ma con le dovute cautele. Si potrà fare attività motoria individuale, non a gruppi. È previsto un accompagnatore per minore o per persona non autosufficiente. I bambini potranno uscire, maleare il gioco con altalene e scivoli resteranno chiuse. Riaprirà le visite anche la casa di riposo Opera Serena, dove sarà possibile accedere solo con guanti e mascherine. Per l'apertura dei negozi di vendita al dettaglio bisognerà attendere il 18 maggio, così come previsto dal decreto nazionale, mentre sarà consentito l'asporto e quindi la possibilità solo di ritirare i cibi già pronti, che vanno però consumati a casa o in ufficio. Anche sui mezzi pubblici dovranno essere rispettate le distanze e sarà obbligatorio indossare la mascherina. Insomma, da lunedì iniziano le prove di convivenza con il virus e è per questo che il buonsenso e le raccomandazioni sono più che mai necessarie. Vi chiedo veramente con il cuore una cortesia. Continuiamo a rimanere possibilmente nelle aree limitrofe alle proprie abitazioni. E' vero, ci si può spostare liberamente, ma se tutti immaginiamo di venirci a fare una passeggiata per il corso, il problema non l'abbiamo superato. Se tutti immaginiamo di andare giù al parco di Termoli, il problema non l'abbiamo superato. Quindi verifichiamo. Quando andiamo in un posto, se quel posto già lo vediamo in qualche maniera, non dico affollato, ma con presenze di altre persone, evitiamo di stare in quel posto. Andiamo a farci una passeggiata da un'altra parte. Dopo il 4 maggio è possibile farsi la passeggiata per il lungomare. Ma anche qui cerchiamo di farlo con consapevolezza. Non ritroviamoci tutti a lungomare. Non ritroviamoci tutti giù al porto, dove erano le location abituali di tutti quanti noi. Colgo l'occasione per dire a voi un auguri di un primo maggio che sia un primo maggio di riscossa, un primo maggio che possiamo prevedere una ripartenza. arriverà pure il periodo di poter andare giù al mare, ne sono confinato. Almeno per noi di Termoli, di poterci godere il nostro mare. Anche lì, quando sarà il momento, definiremo quali sono le linee guida di comportamento. Se tutti quanti insieme riusciamo ad autocontrollarci, a metterci il buon senso in quello che facciamo, così come abbiamo ottenuto questi favolosi risultati. Da marzo ad oggi sono certo che a luglio potremo cominciare ad avere una nuova speranza e una nuova visione per il nostro futuro. E adesso occupiamoci della bufera che oggi ha investito il governatore della Liguria, Toti, che è ospite di una trasmissione in televisione e ha detto che in Molise non c'è il mare. Immediate le reazioni, centinaia se non migliaia di messaggi di protesta, soprattutto dal Molise. Non solo gente comune, ma anche le istituzioni, con il sindaco di Termoli. Roberti che protesta e invita Toti a venire in Molise. Lo stesso Toti poi cerca di correggere il tiro con un post su Facebook. Ma sentiamo tutto nel servizio. Io apro le spiagge, produco un effetto massa di sicuro, cosa che non faccio. Se le apre il mio amico Toma del Molise, le spiagge produrrà forse qualche persona che va su una spiaggia di un fiumiciattolo o di un lago. Quindi siccome le regioni e l'Italia è diversa, vogliamo tenere conto delle esigenze diverse. Eccoli i 20 secondi in televisione che hanno scatenato una bufera sul governatore della Liguria Giovanni Toti. Poche frasi pronunciate durante un collegamento con la trasmissione Dritto e Rovescio su Rete4. Poche parole che però sono bastate per accendere la polemica. Ai più è sembrato che Toti non sapesse che in Molise ci sono il mare e le spiagge. La vicenda è finita così su tutti i media nazionali e dal Molise sono partiti centinaia di messaggi, se non migliaia, soprattutto attraverso i social, che hanno sommerso il presidente Ligure. A protestare non solo il gente comune ma anche le istituzioni. Il sindaco di Termoli e presidente della provincia di Campobasso Francesco Roberti va all'attacco. Toti ha offeso non solo il Molise, dice, ma tutti i molisani, tutti coloro che lavorano sulle nostre spiagge e chi ogni anno le sceglie per le vacanze. Siamo orgogliosi della nostra costa, prosegue Roberti, che offre qualcosa di particolare, un'oasi incontaminata con un ambiente sano. Il sindaco, infine, invita il presidente della Liguria a venire per qualche giorno di relax in Molise non appena l'emergenza sarà finita. In questo modo, dice, si renderà conto di persona e potrà apprezzare la nostra ospitalità. A Genova il governatore incassa le proteste e poi prova a correggere il tiro con un post su Facebook parlando di strumentalizzazioni. Il paragone con il Molise si difende. L'ho fatto proprio perché c'è il mare come in Liguria, ma ci sono differenze che vanno considerate. La Liguria a 350 chilometri di costa e il Molise circa 35. La geografia non è un'opinione, ma neanche la matematica. E adesso parliamo della festa del primo maggio. Quest'anno una festa ancora più tragica rispetto agli altri anni. L'emergenza coronavirus ha messo ancora di più in difficoltà le famiglie. Lo dice la CGL che denuncia. Non sono nemmeno partite le pratiche per la cassa integrazione indieroga e molti sono senza soldi. Quest'anno serve vera solidarietà ai lavoratori, dice il Vescovo Bregantini. Servizio di Marta Martino. Parlare di lavoro in Molise è già difficile in tempi normali. Figuriamoci durante la pandemia che ha bloccato tutti i settori vitali per l'economia nazionale e regionale. Se le famiglie prima del Covid erano in grossi problemi, figuriamoci ora che stanno vivendo un'emergenza globale. A dirlo è Daniele Capuano della Filcam CGL che evidenzia anche se prima la classe politica latitava senza dare risposte a chi li aspettava, ora è anche peggio. Le denunce del sindacato arrivano a poche ore dal primo maggio, storica giornata di riflessione sul mondo del lavoro. Quest'anno è una ricorrenza amara, fa presente Capuano, ma ogni anno è peggio perché sarebbe meglio dire che in Molise il lavoro non c'è. I dati sono già allarmanti in tempi normali, con la disoccupazione tra i 18 e i 40 anni che si attesta intorno al 50%, la disoccupazione femminile al 55% e tutti i settori sono in crisi, dall'agricoltura al tessile al metalmeccanico, dal commercio alla sanità. E la regione Molise che fa? Si chiede la Filcam CGL. Niente, snobba i cittadini. In piena crisi da coronavirus, dice Capuano, ancora nemmeno vengono prese in carico le pratiche per la cassa integrazione in deroga. lasciando migliaia di lavoratori senza soldi. Dove sono finiti i 57 milioni di euro che il presidente Toma ha detto che erano disponibili per lavoratori e aziende, in particolare per turismo e commercio, si chiede Capuano. Non si può dare dignità a questa regione se non si riparte dal lavoro. E la Flai CGL fa una domanda ulteriore. Stiamo approfondendo le ragioni del perché, in un momento come questo, dove sono necessari fondi aggiuntivi. Il Molise sembra non essere incluso nel decreto interministeriale del 5 marzo 2020 che prevede ulteriori stanziamenti a favore delle aree di crisi compressa per la cassa integrazione in deroga e per la mobilità in deroga. Ci vuole solidarietà per affrontare questo difficile momento per tutti i lavoratori, soprattutto quelli che rischiano di perdere la loro occupazione o di chiudere la loro attività. A dirlo è Monsignor Bregantini, anche in qualità di responsabile della pastorale diocesana del lavoro. Ha spezzato il cuore di tutti vedere le scene della consegna delle chiavi di ristoranti, bar e servizi alla persona. I sindaci, ha detto il Vescovo, tutti i settori sono preziosi per il Molise. Non si può correre il rischio che nessuno di essi venga cancellato. E questo primo maggio, ancora più degli altri anni, va fatta sentire la vicinanza a chi rischia di perdere il lavoro. Vicinanza vera, non promesse, soprattutto politiche concrete, non elemosina, provvedimenti accessibili, facili da ottenere, tempestivi ed efficaci per tutti, ha concluso Bregantini. E quest'anno è un primo maggio senza musica, almeno nelle piazze. I tanti concerti che solitamente si tengono in questa ricorrenza si sono tenuti in maniera virtuale sui social, compreso quello organizzato a Campobasso. Proprio all'evento del capoluogo è arrivato un messaggio speciale, quello di uno dei componenti dei PUR, Roby Facchinetti, che però ha approfittato dell'occasione per ringraziare i medici del Cardarelli che hanno salvato la vita, come saprete, a due pazienti della sua città, e cioè Bergamo. Vediamo. In questo momento difficile, doloroso, dovuto al coronavirus, la musica ci può regalare veramente tanto, tante emozioni, tante buone energie. Vorrei approfittare di questo mio breve video per ringraziare tutti i medici e infermieri del vostro ospedale Cardarelli che hanno ospitato con il coronavirus due miei concittadini di Bergamo e da pochi giorni sono rientrati a casa guariti grazie a voi. Un grande gesto di generosità da parte vostra. Vi voglio ringraziare a nome di tutta la mia città. Vi abbraccio. Buon primo maggio a tutti da Roby Facchinetti. Ciao. E' primo maggio all'insegna di una nuova delusione per gli ex ITR di Isernia che dopo tante promesse da parte degli esponenti di tutti i partiti del Governo nazionale si sono visti di nuovo bloccare la mobilità a causa della carenza dei fondi e del Ministero che ne ha informato la Regione. L'intervista di Enzo Di Gaetano alla consigliera regionale Filomena Calenda. Vediamo. Primo maggio anche in provincia di Isernia ma un primo maggio amaro è arrivata da Roma la notizia che non ci sono i soldi per pagare gli ex ITR, la mobilità nonostante tutte le promesse fatte dagli esponenti del Governo nazionale, Griglini, Democratici e altri, tutti promettevano che c'erano i soldi per la mobilità che il Governo Conte aveva stanziato i soldi ma non è vero, non ci sono i soldi, Filomena Calenda che succede? Allora non voglio cadere in polemica oggi che è il primo maggio, in pratica il Governo regionale ha inviato il famoso elenco dei lavoratori a venti diritto alla mobilità in deroga dell'ITR, ex lavoratori ITR dell'area di crisi e il Governo ha risposto che a disposizione ci sono solo 1.500.000 Euro, quindi per il pagamento completo dei 5 mesi per tutti questi lavoratori che sono rientrati mancano circa 600.000 Euro, allora nel momento in cui il dirigente ha informato il Governatore, il Governatore si è subito attivato e ha inviato una nota al Ministero dove ha chiesto di pagare 4 mesi lasciando per ora il mese in sospeso, visto che mancano come abbiamo già detto questi 600.000 Euro, ma in maniera tale che anche questi lavoratori che da troppo tempo sono rimasti senza risorse, possano avere la loro boccata di ossigeno, quindi secondo me siamo nella direzione giusta, ci ho sempre creduto, ho sempre confidato in questo progetto che comunque spetta, cioè i lavoratori dell'ex ITR, i lavoratori dell'area di crisi devono avere questo contributo, devono avere la mobilità di 5 mesi e quindi stiamo lavorando in quella direzione, sono convinta che stiamo oramai arrivando al punto di arrivo come giustamente dovrebbe essere, quindi io chiedo ancora un attimo di pazienza, sto seguendo questa questione da tempi non sospetti e confido nel Governatore e dopo questa nota voglio vedere cosa ci risponderà il Governo a 5 Stelle e PD. Sì, ma com'è? Il Governo a 5 Stelle e PD aveva garantito che questi soldi erano stati stanziati, mirati proprio per gli ex ITR, com'è che adesso non ci sono più, che succede? Ma vede, questi magheggi oramai siamo abituati a vederli, io non lo so cosa stia succedendo a livello nazionale e probabilmente ora non è il momento delle polemiche, sicuramente dovranno darci una risposta perché se ci sono 1.500.000 Euro, questo 1.500.000 Euro fanno l'anticipo dei quattro mesi e si risolve il problema per ora. I lavoratori dell'area di crisi devono avere questi soldi, quindi non bando alle ciance, bando alle chiacchiere, andiamo verso questa direzione. Io spero che per maggio si possa arrivare al pagamento perché altrimenti quando non c'è più vita è inutile dare questo ossigeno. Calenda, ma la Regione non ha nessuna colpa per evitare? Non mi piace vedere chi ha le colpe e chi non ce le ha, sicuramente ci sono delle colpe anche regionali, però vede, in questo momento noi dobbiamo arrivare al nocciolo, cioè noi dobbiamo capire cosa sta succedendo e portare a casa il risultato. Poi se la colpa è del PD e dei 5 Stelle, se è della Regione Molise, poco interesserà. Finita questa fase, poi andremo a cercare il colpevole. Una festa del lavoro per tante persone senza lavoro può sembrare beffardo questo primo maggio, invece ancora di più oggi deve essere occasione per riflettere sul tema e trovare soluzioni immediate. Lo dice il PD del Molise, negli ultimi anni ci si è concentrati sul tema dei contratti dei lavoratori, sulla precarietà, sulle retribuzioni, sul lavoro nero. Quest'anno tutti questi argomenti sembrano secondari rispetto al dramma che stanno vivendo milioni di famiglie italiane che da un giorno all'altro si sono ritrovate senza lavoro. Per questo è importantissimo ed urgente mettere in campo un grande programma di investimenti pubblici e privati. E adesso parliamo di Campobasso dove è polemica dopo che la comunità cappuccina del Sacro Cuore ha deciso di spostare la statua della Madonna dei Monti, molto venerata dai cittadini, soprattutto durante il mese di maggio, nella chiesa di piazza San Francesco. Lo abbiamo fatto per permettere ai fedeli di adorare la Madonna osservando le disposizioni per il coronavirus, spiega padre Luigi Chiaro Lanza. Ma ai Campobasso Ani la decisione non piace ed è polemica. Ce ne parla Giovanni Di Tota. Guardare verso la collina Monforte a Campobasso significa per chi crede anche rivolgere un pensiero alla Madonna dei Monti che dall'alto è come se sorvegliasse tutta la città. E con il fedeli vadano in pellegrinaggio fino alla chiesetta che ospita la Vergine incoronata. Un rito che non fa rima con le disposizioni e il cosiddetto distanziamento sociale. In questi giorni c'è anche stato un momento di frizione tra il Vaticano e Palazzo Chigi, proprio per le decisioni assunte dal governo sulle celebrazioni religiose. Frate Luigi Chiaro Lanza, del Convento dei Cappuccini, che sovrintende alla Chiesa dei Monti, ha preso una decisione che evita in qualche modo che i fedeli arrivino troppo numerosi sulla collina Monforte e ha fatto scendere la Madonna in città portandola nella chiesa di San Francesco. Una scelta, ha dichiarato padre Luigi, che consentirà a più persone di adorare la Madonna dei Monti nel mese di maggio e di mantenere la distanza di sicurezza indossando la mascherina. Non tutti però l'hanno presa bene e in tanti hanno riversato la loro protesta sui social, gridando all'ingiustizia contro una delle tradizioni religiose più sentite in città. Peraltro, solo qualche settimana fa, i fedeli avevano dovuto anche rinunciare alla processione del venerdì santo. Alla fine del mese mariano, l'infiorata e la processione della Vergine incoronata salutavano il suo passaggio tra le strade cittadine. Unico momento, dicono sempre i fedeli arrabbiati, in cui la Madonna viene spostata dalla chiesa. Qualcuno ne ha chiesto l'immediato riposizionamento nella chiesa dei Monti. Fra Luigi ha già annunciato che il trasferimento della statua è ovviamente solo temporaneo e che il primo giugno tornerà nella sua sede originaria. La Madonna, ha detto il cappuccino, non necessariamente deve stare in alto per guardare la città in questo periodo così difficile. Può invece scendere e avvicinarsi ancora di più a chi soffre, ha concluso padre Luigi Chiarolanza. Un vero e proprio ospedale virtuale è stato creato dal Centro per lo studio e la cura della malattia del Parkinson al Neuromed di Pozzilli. Grazie all'uso delle tecnologie telematiche, gli operatori rispondono alle domande dei pazienti e li seguono nei vari percorsi di attività fisica. Ce ne parla Sergio Di Vincenzo. Un interessante e innovativo progetto di medicina partecipativa è diventato realtà al Neuromed di Pozzilli. Anche in questa fase di emergenza i pazienti sono infatti i protagonisti del loro percorso terapeutico grazie a un'idea concretizzata dal Centro per lo studio e la cura della malattia di Parkinson e dall'associazione Parkinson. Grazie alle tecnologie telematiche è stato creato un vero e proprio ospedale virtuale dove è possibile porre domande o essere seguiti nelle varie attività fisiche. Ogni giorno medici ed esperti propongono sessioni di question time su temi specifici legati alla malattia di Parkinson. Ci si confronta su vari argomenti dai sintomi alle terapie e dai disturbi cognitivi all'alimentazione. Tra i principali obiettivi quello di creare momenti di socializzazione, di aiutare i membri della comunità Parkinson ad affrontare il lungo periodo di isolamento domestico in un contesto informale. Gli incontri stanno riscuotendo grande interesse, alle sessioni partecipano tra le 70 e le 80 persone al giorno. L'idea, ha spiegato Nicola Modugno, responsabile del Centro Parkinson, nasce dal concetto di discussione libera in un rapporto diretto tra pazienti, medici ed esperti. Lo spazio online, ha detto ancora, ha rappresentato un'opportunità per favorire l'incontro tra molte realtà in ogni parte d'Italia e in diverse occasioni ci sono stati scambi utili di informazioni tra esperti, oltre a incontri tra pazienti. Question Time sta assumendo la caratteristica inaspettata di uno spazio terapeutico innovativo, ha concluso Modugno, in cui le persone sentono di poter crescere insieme in un contesto intimo e protetto, grazie anche alla presenza di medici esperti e specializzati, accompagnati e guidati dalla psicologa e psicoterapeuta Silvia Della Morte. E parliamo ancora del Neuromed, perché vi dicevamo in apertura che sono guariti i pazienti che erano positivi al Covid e ricoverati proprio al Neuromed, una notizia che è stata accolta con grande soddisfazione alla clinica di Pozzile. L'importante traguardo raggiunto, commentano dalla direzione, ci infonde nuovo entusiasmo per riprendere l'attività di cura. Tutto il nostro personale sanitario si è prodigato con impegno e professionalità per superare l'emergenza che ha richiesto l'attivazione di protocolli e percorsi assistenziali Covid dedicati. In questo periodo, oltre ad affinare la nostra competenza professionale, ci siamo arricchiti anche umanamente, stando quotidianamente a contatto con pazienti e famiglie che hanno affrontato un'importante sofferenza legata a questa infezione. E adesso parliamo del centro oculistico Laurelli, che ha ricevuto un riconoscimento di centro di riferimento per la regione Molise. Vediamo. Dottor Francesco Laurelli, dunque un'altra grande soddisfazione per il suo centro, perché è stato dichiarato come centro di riferimento per la regione Molise. Sì, noi abbiamo un'associazione, si chiama SOI, Società Fotofrenologica Italiana, che raccoglie gli 8.000 oculisti italiani. Questa società, questa associazione ha messo in campo un numero verde, cui gli utenti possono rivolgersi per chiedere spiegazioni sull'occhio e ovviamente il coronavirus. Sono stati creati 20 centri regionali e nel Molise siamo stati scelti noi. Ed è molto utile, perché stiamo ricevendo molte telefonate di pazienti preoccupati ovviamente per le malattie oculari. Volevo ricordarle che il primo medico cinese che ha scoperto la malattia era un oculista, poi è morto, è morto in reparto. Quando il paziente ha dei dubbi può chiamare tranquillamente questo numero verde e a cui risponde sempre un operatore. Quando poi il medico non è disponibile verrà ricontattato. Ecco, Sandro, ma quando si deve chiamare il centro oculistico Laurelli, naturalmente nel caso dell'Ammolizio? Quali sono i sintomi per cui ci si deve allarmare? Certamente non la banale congiuntivite. In questo periodo, come lei sa, ci sono congiuntivite primaverile, comprovito, occhio rosso. Non è quello il problema. Quando l'occhio è molto rosso, gonfio, a volte con ecchimosi, addirittura io ho avuto dei casi importanti che poi abbiamo risolto. Quando la situazione non è chiara o è diversa dagli altri anni, a quel punto è opportuno rivolgersi allo specialista. Quindi non per un arrossamento generico, però sa, io mi metto anche nei panni dei nostri telespettatori. Poi è difficile anche discernere da soli se è il caso di allarmarsi o meno. Intanto noi siamo operativi, lo siamo sempre stati, quindi siamo sempre disponibili. Quando il paziente ha dei dubbi può chiamare e in caso questo fosse necessario noi siamo pronti anche a visitarlo. Certamente. Ricordiamo anche che, come mi diceva in un'altra circostanza, lei ha già curato dei pazienti che hanno avuto il coronavirus naturalmente sotto forma di congiuntivite e alla fine sono guariti. Abbiamo avuto due casi molto importanti, due membri della stessa famiglia non conviventi con congiuntivite da coronavirus e abbiamo avuto molte difficoltà all'inizio perché non esisteva, non esiste una cura specifica per il virus. Poi nel tempo abbiamo messo a punto una terapia che è diventata molto efficace, impiega qualche giorno in più rispetto alla terapia convenzionale, ma i risultati sono molto buoni. Quindi voglio anche rassicurare i pazienti nel caso di avere problemi di congiuntivite anche da coronavirus la possiamo curare. Il GIP del Tribunale di Isernia, su richiesta della Procura, ha sospeso in maniera cautelare per due mesi dal servizio un sottoufficiale dei carabinieri indagato per aver fornito informazioni riservate al gestore di un centro di accoglienza per migranti che si trova in un paese nei pressi di Isernia. Il sottoufficiale avrebbe chiamato il gestore avvisandolo dei controlli nella struttura. L'arma ha subito trasferito in un altro comando territoriale il sottoufficiale in questione. Servizi educativi 06 è la sigla per indicare tante realtà, soprattutto cooperative, che si occupano delle attività di centinaia di bambini fino a sei anni. In Molise un piccolo esercito di 500 addetti che in una lettera al Presidente della Regione chiede interventi urgenti per un settore che, dicono, è stato totalmente ignorato dal Governo nazionale. Servizio di Giuseppe Carriera. In gergo sono definiti servizi educativi 06. In pratica rappresentano la somma di luoghi e competenze che accompagnano i bambini, e spesso per molte ore al giorno, in una fase importante della loro crescita. Nidi, sezioni primavera, scuole dell'infanzia sono fermi dal 5 marzo per l'emergenza Covid, ma nessuna misura specifica è stata individuata finora a sostegno dei lavoratori delle società, spesso cooperative, che gestiscono molti servizi in convenzioni o da privati anche in Molise. Eppure, con il possibile ritorno al lavoro nelle prossime settimane di tanti genitori, esiste una esigenza immediata. Sono una mamma lavoratrice che ha scelto di affidare i propri bambini a delle strutture educative, ma quando capisci di aver fatto la scelta giusta affidando i tuoi bambini a delle persone competenti ed affettuose e soprattutto capaci di sostituirti nel ruolo di mamma durante le ore di tua assenza, ti senti mancare un po' la terra sotto i piedi quando questo servizio viene meno, considerato il delicatissimo momento che stiamo vivendo. A mio avviso i bambini hanno bisogno di interagire con altri bambini, hanno bisogno di vivere la quotidianità al di fuori delle mura domestiche, scoprendo anche un nuovo contesto all'interno del quale relazionarsi, che non sia la propria abitazione. In particolare agli asili nido e dell'infanzia, perché svolgono un ruolo importantissimo per centinaia di migliaia di famiglie che sono abituate all'erogazione di servizi di alta qualità e che vorrebbero fortemente che tali servizi non venissero depotenziati al momento della riapertura post-coronavirus. Sull'argomento è intervenuta tramite il suo presidente molisano Domenico Calleo l'Alleanza delle Cooperative Italiane, che in Molise raccoglie circa 30 società aderenti a confcooperative LegaCop e AGC, con una griglia specifica di richieste indirizzate alla regione. Si va da fatti tecnici all'apparenza, ma fondamentali nella sostanza, come il credito d'imposta sui canoni d'affitto, da cui per ora queste strutture sono escluse, a fronte di superfici locate invece molto grandi e quindi costose. Ma anche che sia assicurata la cassa integrazione per tutti gli addetti fino alla riapertura. C'è un'altra boccata ad ossigeno possibile, con l'auspicato snellimento delle procedure per le liquidazioni delle spettanze arretrate per le sezioni primavera. Ma fondamentale, dicono i responsabili delle strutture, sarebbe un voucher bambino da erogare a copertura almeno delle spese fisse per il periodo di chiusura. Abbiamo deciso di creare questo gruppo di responsabili servizi educativi 06 anni, privati molisani, per salvaguardare il futuro delle nostre strutture. Abbiamo chiuso ormai dal 5 marzo e non sapremo quando potremo riaprire. Come possono queste strutture sopravvivere in questo duro momento? Allora vi chiediamo aiuto, aiuto e sostegno concreto, perché queste strutture da qui a qualche mese potranno non esserci più. Per il sol motivo che manderemo a casa tutte le persone che lavorano con noi, oltre 500 persone senza lavoro e servizi educativi scompariranno dalla nostra regione. Ci troviamo in un periodo catastrofico, ma nessuno pensa alle strutture educative 06, a cui i genitori hanno affidato i loro figli fino a qualche mese fa. Lo Stato non ha previsto aiuti per noi, l'unica cosa certa è che siamo stati primi a chiudere e probabilmente saremo gli ultimi a riaprire. La regione Molise, rispetto alle altre regioni, presenta una carenza enorme di strutture educative 06, pubbliche e comunali. Basti pensare che a Disernia e a Benafron non ci sono asili nido, a Campobasso ce n'è solo uno, nei vari paesi spesso mancano le scuole dell'infanzia pubblica e figuriamoci nidi. La regione Molise deve aiutarci per amore anche dei bambini e delle loro famiglie. L'appello, posto con i toni dolci di chi ogni giorno lavora con i bambini, ha tutta la forza di un grido di richiesta d'aiuto. Il libro sul processo di San Giuliano Memorie, giunto alla sua quarta edizione, scritto dal noto e affermato avvocato molisano Arturo Messere, è stato segnalato sull'ultimo numero della prestigiosa rassegna mensile D'Eloquenza dei penalisti, gli oratori del giorno, fondata nel 1927. Il volume di Messere, che ha avuto un successo editoriale notevole, vuole essere uno stimolo alla conoscenza delle cause e delle concause che hanno determinato il crollo della scuola Iovine durante il terremoto del 2002 del procedimento processuale. La pubblicazione, come ha sempre sottolineato l'avvocato Messere, per contenuto, illustrazione e articolazione argomentativa è accessibile ad un pubblico variegato, non strettamente professionale, interessato anche agli erronei e perversi meccanismi della giustizia troppo spesso applicati ai processi italiani. Un lavoro che, ha spiegato Messere alla presentazione del libro, evidenzia le ingerenze anomale dei poteri forti nell'autonomia ed indipendenza della magistratura decidente. Un altro bel gesto di solidarietà da parte della Diorio SPA, azienda con sede a Frosolone, ha infatti donato un respiratore polmonare al reparto di rianimazione del Cardarelli di Campobasso. La foto che vedete è stata inviata dal personale dell'ospedale in segno di ringraziamento. L'azienda di Diorio era già intervenuta in questa fase di emergenza attivando un servizio di fornitura gratuita di acqua minerale Molisia destinata ai reparti di rianimazione impegnati nella cura dei pazienti Covid per gli ospedali di Abruzzo e Molise. Questa è una partita da vincere insieme, hanno detto Gino e Domenico Diorio, titolari dell'azienda. Noi siamo pronti a continuare ad offrire il nostro supporto. È stato eseguito dall'Epic Music Orchestra il 25 gennaio scorso sul palco dell'Auditorium di Isenia in occasione della conferenza di lancio di Unesco Edu 2020. Tra i componenti l'orchestra dei nostri colleghi giornalisti Vincenzo Cimino e Giuseppe Lanese. Vediamo. Grazie a tutti. 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 Bene, con la musica si chiude il nostro telegiornale del primo maggio. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon fine settimana.